10 questo è 10 5, 4, 3, 2, 1 vai sinistra a destra a 6 attenzione salti per destra tornante due tempi sinistra a 2 secca in destra a 2 secca destra a 2 secca in sinistra a 2 secca 100 sinistra inversione secca 50 destra a 1 secca pulito 50 che perdiamo più tempo se no sinistra a 1 secca 50 destra a sinistra a 2 stringe 100 sinistra a 2 in destra tornante 1 vai ok fermati 1 e 1 1 1 e 36 a 2 secca ok 1 2 1 1